Padre David Maria Turoldo è stato uno dei più grandi poeti italiani è morto qualche decina di anni fa però ha scritto anche cose in prosa di cui appunto parliamo dopo la sigla Ciao a tutti e bentornati su Non Di Solo Pane oggi parliamo di David Maria Turoldo un grande poeta, uno che amava cantare come diceva lui spesso mentre dialogava veniva intervistato e gli diceva sempre il cantare non scrivere poesie ma proprio cantare era abituato d'altronde dal suo frequentare i salmi a riferirsi alla poesia in questo senso proprio del canto il libro è questo, Il Mio Vecchio Friuli edito da Biblioteca dell'Immagine il titolo originale però uscito per la Locusta di Vicenza era Mia Terra, Addio non ho capito questo cambiamento del titolo è un libro che contiene diciamo una prima parte molto biografica a mio avviso quella più bella e la seconda parte dove lui parla del Friuli della gente friulana della gente che ha dovuto affrontare il terremoto il libro si chiude con una lettera alla mamma di Pierpaolo Pasolini allora è un libro veramente inaspettato io l'ho trovato in un mercatino dell'usato mi capita sempre di trovare alcune rivelazioni in questi mercatini con pochi euro dove in questo libro lui parla appunto della sua infanzia un'infanzia devo dire poverissima nove in tutto erano i nove sette fratelli più i genitori vivevano erano i più poveri nel suo paese ed è appunto incredibile come da una famiglia così povera dove l'alimento quotidiano era praticamente scandito alle nazioni di Polenta ecco si è potuto venire fuori un poeta come Turoldo un grande sacerdote un grande prete a servizio di Dio e anche ecco non solo non è magari solo il suo caso che sarà successo sicuramente per altri però questo è comunque incredibile che da una povertà così tremenda così radicale possa venire fuori ecco possono venire fuori questi diamanti chiamiamoli così quello che più mi ha colpito della parte biografica di Turoldo che appunto non è vissuto mille anni fa ma è nato è morto da qualche decina di anni fa è nato nel 16 se non erro è nato nel 1916 è che questa gente la gente friulana come quella veneta perché io abito appunto in Veneto quindi sono confinate con il Friuli era anche la mia gente e noi quelli della mia età non hanno proprio idea appunto io credo di cosa sia la vera povertà e di cosa sia davvero la vera fame c'è una parte qui in cui lui dice adesso non riesco a trovarla l'ho sottolineata stranamente però me la ricordo più o meno dove lui racconta che solo lui può sapere veramente il gusto che ha una ciliegia il gusto che ha un chicco d'uva il gusto che ha il pane che veniva dato solo se era malato perché lui appunto si nutriva e mangiava praticamente solo polenta formaggio latte ecco questa era l'alimentazione lui ama una riverenza quasi nei confronti della polenta che in una pagina dice questo io invece devo difendere la mia infanzia che perciò mi sembra tutta d'oro anche se è stata forse la più povera fra tutte le infanzi dei miei compagni ecco perché un giorno arrivati in una casa di ricchi ed io già grande anzi già sacerdote ormai mi sono sentito bruciare perché appena seduto a tavolo la signora odiosa ebbe l'impudenza di dirmi oggi ci scuserà padre abbiamo polenta e io zitto da prima arrossì perché mi sembrava offesa tutta la mia infanzia offeso tutto il mio friuli poi ecco il cameriere vestito tutto di bianco con una zuppiera in mano e dentro del giallo che nuotava nel burro e sopra degli uccelli rosolati come martiri a loro ho sentito tutto il mio sangue martellare ecco signora le dissi non cominciamo con l'offendere la polenta così fu una ben triste tavolata quella e non solo per queste cose e non fu possibile nessuna intesa il discorso stagnò per l'intero pranzo sui poveri e sui ricchi io capì ancora una volta che non c'è proprio nulla da fare il povero i cibi del povero i suoi gusti sono un segreto di Francesco e Chiara una rivelazione di Cristo ecco quindi davvero un libro interessante che incrina qualcosa dentro incrina il nostro lamento quotidiano su delle frivolezze che rispetto alla vita di Turoldo non sono nulla ecco ci sono dei libri che raddrizzano alcuni nostri lamenti vani proprio vani lo faccio rivedere David Maria Turoldo il mio vecchio friuli perché mi confondo sempre col titolo originale edito da biblioteca dell'immagine bene io vi ringrazio di essere stati sul canale se vi è piaciuto il video vi chiedo di condividerlo e noi ci sentiamo per un prossimo libro ciao